Ehi la Goodlier, un bentornato da Carlo. Proseguiamo il discorso nella descrizione dell'hard disk. La volta scorsa ci eravamo lasciati ai confini del terabyte, ma cosa sono tutti questi termini byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, eccetera? Il byte è un'unità di misura digitale. Lo è anche il bit, che tra l'altro è l'insieme di due parole definite come binari digit. Un byte è un dato numerico ed è costituito da 8 bit, quindi l'insieme di 8 bit. Un bit è una cifra del sistema binario, ossia un sistema costituito da due sole cifre, che può assumere il valore 0 o valore 1. Più che in termini valore, in realtà, sarebbe necessario utilizzare la parola stato o livello. Spesso in tecnica digitale si parla infatti di livello alto o livello basso, per indicare rispettivamente il valore 1 o il valore 0. Questi livelli corrispondono ad uno stato logico, cioè uno stato di un circuito elettronico digitale. Tecnicamente questo stato logico corrisponde allo stato di lavoro di un circuito elettronico, quindi per semplificare le cose, diciamo di voler associare lo stato di lavoro di un circuito elettronico con lo stato fisico di un interruttore. Un interruttore può assumere la posizione di aperto o chiuso. Se inserito all'interno di un circuito elettrico, può far circolare o meno la corrente, a seconda se sia aperto o chiuso. Chi conosce un po' di elettronica sa che un circuito, se è presente un interruttore e lo si apre, ossia si interrompe il circuito stesso, la corrente al suo interno non potrà circolare. Al contrario, se è chiuso, la corrente all'interno di questo circuito potrà circolare ed eseguire una determinata operazione. Supponiamo, ad esempio, di associare il livello logico 1 ad un interruttore aperto e il livello logico 0 ad un interruttore chiuso, così rappresentato come figura. Come si applica questo discorso ad un caso reale? Semplicissimo. Supponiamo che tu voglia realizzare un'operazione, ad esempio, far illuminare una lampadina in una camera. Realizzi il tuo bel circuito, la cui funzionalità è determinata ovviamente dalla posizione dell'interruttore in oggetto. Quando farai chiudere l'interruttore, quindi lo posizionerai nel livello logico 0, la lampadina si illuminerà, mentre aprendo l'interruttore, che corrisponde al livello logico 1, la lampadina si spegnerà. Ora, supponi di realizzarne molti e ogni circuito esegua una funzione ben definita. Accostiamo questo esempio ad un'ipotetica condizione informatica. Immagino, infatti, che ognuno di queste lampadine sia invece una micro lampadina, un LED, ancor più un pixel. Cosa sono i pixel? Quei puntini luminosi di vario colore che, uno dopo l'altro, illuminano per intero un monitor per visualizzare qualcosa come una foto, un documento, un video. Aprendo e chiudendo questi interruttori potrai far illuminare i vari pixel di un monitor in base a ciò che vuoi visualizzare, o meglio, ciò che deve visualizzare il computer. Ma come si organizza la sequenza di questi circuiti? L'insieme di questi circuiti corrisponde ad una quantità enorme di bit, proprio perché abbiamo assimilato ogni bit ad un interruttore. Una quantità pari ad 8 di questi circuiti corrisponde quindi ad 8 bit. Convenzionalmente, una sequenza di 16 bit, ossia 2 byte, viene indicata con il termine parola. Un esempio di parola è la sequenza di questi 16 bit. In ambito informatico possono esistere parole lunghe 16 bit o ancora 32, 64, 128 bit e così via. Le capacità tecnologiche genereranno i vari incrementi numerici delle parole. Tanto più progrediscono, quindi tanto più lunga sarà la parola. Il guadagno che ne deriverà sarà in prestazioni, in quanto una singola parola da 32 bit riuscirà ad eseguire nello stesso istante più compiti ovviamente di una parola da 16 bit, ma meno compiti di una parola da 64 bit. Ti chiederai ma perché le parole hanno sempre una lunghezza raddoppiata rispetto alla precedente? Semplicemente perché il sistema binario è costituito da due sole cifre, 0 ed 1, mentre il sistema decimale è costituito da 10 cifre, da 0 a 9. Quindi le combinazioni possibili relative alla lunghezza di una parola nel sistema binario seguono la potenza del 2 e quindi sono fornite dall'espressione 2 alla n che corrisponde al numero di combinazioni in base al numero di bit. Seguendo la tabella accanto riportata possiamo avere più chiaro un po' il discorso. Se ad esempio abbiamo 4 bit possono avere un numero di combinazioni dato dalla potenza 2 alla 4, sia 16, quindi posso partire dalla sequenza 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 fino ad arrivare a 1, 1, 1, 1, 1. Quindi 16 possibili combinazioni e così via fino alla potenza 2 alla n. Torniamo al nostro esempio didattico. Potessi quindi sostituire ogni singola cifra 1 con un interruttore aperto e ogni singola cifra 0 con un interruttore chiuso. Perché usare gli interruttori? Semplicemente per far capire meglio lo stato logico 1 oppure lo stato logico 0 a livello circuitale. Quindi la parola che avevamo definito in precedenza, 8 bit più 8 bit, potranno corrispondere ad un'operazione circuitale e quindi a sua volta un comando. Bene, l'estrema sintesi, e banalizzando oltremodo il tutto, è stata necessaria solo per farti comprendere che i circuiti digitali sono composti da moltissimi di questi esempi per ottenere un determinato risultato. Il risultato è variabile in base al comando impostato da qualcuno o qualcosa, nella fattispecie il nostro processore. Venendo al sotto, quindi, la sequenza di questi numeri rappresenta in fin dei conti un dato, un'informazione. A questo dato numerico può venire associata una serie di cose. Può essere un'istruzione all'interno di un programma, di un computer, oppure una piccolissima parte di una foto, di un disegno, un carattere di una parola. Una sequenza di istruzioni, quindi, produce un effetto finale che, in estrema sintesi, è poi l'obiettivo che volevi raggiungere utilizzando un determinato programma, sistema operativo, un browser, un computer in genere. Come si evolvono in informatica i dati numerici dei byte? Prendendo in considerazione la tabella qui a fianco riportata, vediamo che, ad esempio, 2 alla 10 corrispondono a 1024 byte, che, abbreviati, vengono definiti con il termine 1 kilobyte. 2 alla 20 corrispondono ad un megabyte, 2 alla 30 un gigabyte e 2 alla 40 un terabyte. Leggendo attentamente quest'ultima tabella, puoi evidenziare una particolarità di alcuni termini, nella fattispecie kilobyte, megabyte, eccetera. Puoi vedere che un kilobyte, che in realtà corrisponde a 1024 byte, non mille. Un megabyte corrispondono a 1.048.576 byte e non un milione di byte. Questa differenza, rispetto alla canonica potenza del 10, è dovuta al fatto che il sistema binario usa la potenza del 2. E, essendo questi numeri particolari, kilobyte, megabyte, gigabyte, molto prossimi agli equivalenti con potenza del 10, le stesse sigle sono state adottate anche in informatica come uno standard per una rapida dizione scrittura, però esprimendo soltanto un ordine di grandezza e non quindi una quantità ben precisa. Anche se userò termini improponibili, te lo spiego meglio con un altro esempio, parlando di mele. Un kilobyte corrisponde, abbiamo detto, a 1024 byte. Un chilogrammo di mele sono mille grammi. Un megabyte corrispondono a 1024 kilobyte. Un megagrammo di mele corrisponde a mille chilogrammi. Un gigabyte corrisponde a 1024 megabyte. Un gigagrammo di mele corrisponde a mille megagrammi di mele e così via, fine terabyte. Un terabyte, abbiamo visto, che corrisponde a 2 alla 40 byte, mentre un teragrammo di mele corrisponde a 10 alla 12 grammi di mele, nella fattispecie mille miliardi. La differenza è definita da questo dato numerico. Ciò comporta inevitabili imprecisioni, quando andiamo ad acquistare un qualsiasi supporto di memorizzazione, leggendo il valore reale della capacità di memoria disponibile. Noterà, infatti, che il valore effettivo sarà sempre inferiore al valore dichiarato. Questo significa che un hard disk acquistato per una capacità pari ad un terabyte non corrisponderà realmente a 2 alla 40 byte, ma a diversi gigabyte di meno. Ciò perché, come dicevamo, la sigla terabyte esprime solo un ordine di grandezza e non una quantità ben precisa. Prova ad avviare il programma Explore Risorse o Risorse del Computer dal tuo sistema operativo. Poi, col tasto destro del mouse, clicca su Proprietà dello stesso e vai a leggere la capacità di memoria dell'hard disk. Quanto credevi che fosse la capacità del tuo hard disk? Potrai vedere che la quantità di capacità di memoria reale del tuo hard disk sarà molto minore rispetto al valore per il quale tu l'hai acquistato. Se vogliamo, questo lo possiamo anche far corrispondere ad una bella politica commerciale. Sappiamo ora che, quindi, un byte è costituito da 8 bit. Per cui, se vuoi conoscere l'esatto numero di bit di una cifra in byte, devi semplicemente moltiplicare questo valore per 8. Ora, credo, tu avrai acquisito una capacità diagnostica sul significato delle cifre byte, kilobyte, megabyte, eccetera. Cioè, la capacità di memorizzazione dei vari supporti che circolano in maniera ormai spropositata nel mondo. Riallacciandoci al discorso della lezione precedente sugli hard disk, diciamo che un supporto di un terabyte contiene, quindi, 2 alla 40 byte, apparentemente. E, moltiplicando questo valore per 8, contiene un numero di bit pari a 8.796.093.022.208 bit. E ricordati un po', qualche lucido fa, un bit a cosa può essere rappresentato? Bene, nella prossima lezione scenderemo sempre più nel dettaglio, nella conoscenza dei pc, andando a conoscere la scheda madre. Ora non mi resta che salutarti, ciao a presto da Carlo.